E' un'altra parte. Ecco qui. Ehi, voi. Ehi, voi. Chi è? Chi è? Polizia. Va bene, ma dobbiamo portarvi i lenzuoli. Disinfezione. Disinfezione? E' che sono infettivo io. Ma che c'entra? E' morta una vecchia qui ieri sera. Ma è morta una vecchia infettiva ieri sera? E perché non ci mettete un cartello? Ma cosa c'entra? Ma in che mondo viviamo? Non c'è pace, non c'è Dio, non c'è igiene. Infezione. Dottore. Dottore. Senta, dottore. Mi sono infettivo, dottore. Oh, porca miseria. Dottore. 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 Dov'è? Dottore. Dottore, per carità. Siete voi, eh? Sì. Siete tranquilli adesso? Ma che tranquilli, tranquilli. Qui bisogna fare qualche cosa. Sono tutti infettati. Infettati? Sì. Ho dormito nel letto della vecchia che è morta ieri sera. Ah, no, no. Quella era una vecchia mendicante raccolta nella strada. E' morta di inedia. Inedia? Oddio, e che sarà questa inedia? Sì, insomma, è morta di stenti, debolezza. E io già mi sento un po' debole. Morta di fame, ecco. Ah, morta di fame. Allora, che ampia specie. Sciocchezza. No. Io invece credevo chissà. No, solo morta di fame. Grazie tanto, dottore. E mi rispetto, dottore. Dottore, o segui? Accomandi? Alle volte.